www.redigio.it e la storia continua Tradizioni milanesi, piazza d'armi Abbiamo già accennato l'isolamento dell'area di Baggio rispetto alla città e, come sempre, ci siano una molteplicità di condizioni che concorsero a questo risultato Un elemento significativo fu senz'altro la presenza delle strutture militari che formavano proprio una barriera fra le città e Baggio Adesso, ancora, la via delle forze armate sembra un percorso slegato fra gli insediamenti Nel 1910, Gabriele D'Annunzio, all'Irico di Milano, tenne la sua prima conferenza sull'aviazione che ebbe come titolo il dominio dei cieli e i milanesi, per vedere le macchine volanti, si radunavano intorno alla piazza d'armi di Baggio dove avvenivano le esibizioni dei biplani di Luzzato, Fraschini, il menoplano di Tonin e la società Helios Il Corriere della Sera così riferiva di una successiva manifestazione Nell'agosto del 1913, in piazza d'armi a Baggio, un aereo fece la prima picchiata Il Maggiore Pietro Minetti si innalzò con un monoplano Berriot e dopo diverse evoluzioni a 1500 metri il pubblico a corso lo vide precipitare in linea verticale e poi atterrare fra gli applausi degli astanti stabilendo per la prima volta nel mondo la tecnica della picchiata Nel 1920, l'aeroporto fu titolato a Remo la Valle capitano dei granatieri del battaglione dirigibilisti in qualità di ufficiale di bordo e di comandante in seconda morto il 23 luglio 1917 in un'azione di guerra L'aeroporto, classificato nella categoria di aeroporto di tappa per dirigibili in armamento ridotto si estendeva su un'area di circa metri 620 x 580 Il campo era circondato da coltivazioni a cereali curate dalle vicine cascine Torretta, Basciana, Creta e Moretto Oltre all'hangar, in struttura metallica il complesso era costituito da una serie di attrezzature ed impianti aeronautici complete di alloggiamenti per ufficiali, mensa e truppa oltre alle necessarie officine a supporto delle attività Un'infermeria disponeva di medicinali essenziali mentre l'assistenza sanitaria era svolta dal medico del settimo reggimento di fanteria o da quello dell'aeroporto di Tagliedo Grazie a tutti per aver guardato il video Grazie a tutti per aver guardato il video